Avere cura delle parole in un contesto di cura come questo è importante per avere cura dell'essere umano a tutto tondo. La lingua è come una casa nella quale abitiamo e per abitarci al meglio dobbiamo renderla confortevole, utile e comprensibile. Confortevole perché è bene che la lingua sia per tutte le persone e di tutte le persone e che tutte le persone possano sentirci a proprio agio dietro. Utile perché non deve essere soltanto un orpello ma deve essere un mezzo per comunicare, per costruire relazioni positive e infine comprensibile perché tutti e tutte hanno il diritto di abitare la propria lingua e di capirla, di poterla utilizzare a tutto tondo e di potersi sentire parte di una società organizzata che appunto utilizza la lingua come un mezzo per costruire socialità.